Il calcio è imprevedibile 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 tutti e due lavorano per la sanità, tutti e due lavorano per il politico però fanno dei lavori diversi e nessuno può dire di conoscere bene il mestiere dell'altro per cui secondo me Paparesta si trova a vivere in modo naturale, in modo come dire, fisiologico un ruolo che non gli è stato proprio che sta incominciando a conoscere quindi come lui stesso ammette lo ha messo anche io, sta commettendo degli errori la capacità sta nel cercare di non replicare gli stessi errori nel commetterne meno rispetto a quelli che ciascuno di noi compie e che una persona che si trova a giocare un ruolo per la prima volta deve compiere questo è ad accettare consigli invece l'errore di Mangia qual è stato? il nostro amico dice pronti via non mettere mano alla squadra che andava a mille e che ha chiuso in modo eroico il campionato ma secondo me, al di là di questo che secondo me è stato un errore io avrei come dire l'unica volta in cui mi trovo d'accordo con Fascetti avrei cercato di conservare il meglio dello scorso anno e avrei però ho detto proprio in questa trasmissione l'ultima volta in cui sono stato attenzione non vuol dire perché si possono fare delle scelte tutto è legittimo tutto è possibile magari sarebbe andata malissimo se il Bari avesse confermato il Bari Polenta però io sarei partito da quel gruppo per non sbagliare lui però secondo me era un corpo quasi dal mio punto di vista estraneo nello spogliato cioè non è stato mai accettato complessivamente sì c'era qualcuno dei suoi quelli che ha voluto lui quelli che ha portato lui però complessivamente non si è fatto e questo è importantissimo per non te indipendentemente poi dal modulo di gioco sono d'accordissimo che il 4-4-2 modulo di gioco che ormai ritengo superato dove o è gli uomini certo non lo fanno neanche più gli specialisti del 4-4-2 c'è un amico in linea pronto? pronto Enzo? sì ciao buon pomeriggio un saluto a te e a Michele Salomone ciao ciao voglio dare prima di tutto un bel ben arrivato a Davide Nicola sì facciamo il lavorare tranquillo diamo serenità perché è un allenatore giovane però allo stesso tempo grintoso per quanto riguarda Mangia e le polemiche che ci sono della società l'hanno sbagliato quasi tutti perché dopo la partita di Crotone uno della società doveva uscire da scoperto a chiedere scusa ai tifosi invece non ho visto nessuno che ha fatto né dichiarazioni né niente solo il padre il padre di Paparezza posso dirti una cosa eh bravo il padre di Paparezza è società comunque il padre di Paparezza ma ormai ha dato si è scusato con tutti i tifosi per quello che è accaduto Mimmo grazie per il tuo intervento grazie posso dirti una cosa la prima volta le scuse la terza volta mi sei sentito preso in giro all'ennesime scuse cioè le scuse è come se tu sbagli in continuazione e dici scusa 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 a quel punto hanno fatto bene mi avviso a non ingigantire il concetto di scuse cioè uno si deve far perdonare in campo non con le parole perché le scuse erano già arrivate dopo la gara di Vercelli avevano provato a scusarsi dopo la sconfitta con la Ternana a tutto c'è un limite quindi le scuse non le avrei neanche accettate tanto per essere chiaro però sentiamo uno stralcio della conferenza stampa di Pavaresta io sono il responsabile di tutte le scelte che sono state fatte da quando è nata l'Efeci Bari nel 1908 e se c'è un responsabile la responsabilità è la mia di tutto poi le scelte sono condivise con chi collabora con me ma se vengono fatte delle scelte sotto il profilo tecnico sotto il profilo organizzativo sotto il profilo degli acquisti e tutto il resto sono scelte che comunque sono condivise da me quindi io mi assumo tutte le responsabilità di quello che si è fatto nel bene e negli errori che sono stati fatti molte critiche a volte sono finalizzate ad interessi particolari se c'è qualcuno che ha interesse a portare qui o a creare dissidi all'interno di questa società o con questa tifoseria o ha interessi per far venire qualche dirigente o qualche altra persona sponsorizzarle in maniera più o meno limpida ha sbagliato perché fa danno a quella persona che vuole sponsorizzare fa danno a questa società e questa società è di questi tifosi e non sarà permesso a nessuno che venga strumentalizzata qualche critica per interessi particolari interessi devono essere di tutta la squadra di tutta la tifoseria di tutta la città Concettualmente il discorso di Paparesta non fa una piega però mi chiedo mi chiedo sulla seconda parte in particolare la sensazione che si rivolga a qualcuno che negli ultimi tempi ha fatto uscire spesso il nome di Perinetti provo a dirla insomma perché Perinetti è stato il nome più caldeggiato lui dice queste cose non si dicono per non creare dissidi a me non sembra che occorrano queste voci per creare dissidi in questo momento all'interno della società perché è emersa comunque una sintonia non totale diciamo non a 360 gradi di già a prescindere dalle voci messe in giro da qualcuno che riguardano Perinetti o chi che sia ti chiedo di commentare ma io penso che io non so cosa si riferisce a Paparesta in particolare perché lui poi dice però poi non fa nomi con nomi questo sarebbe interessante però la sensazione è che sia insieme a Perinetti che a me personalmente risulta sia stato contattato a me personalmente può darsi anche che abbia avuto delle informazioni sbagliate però a me risulta che sia stato contattato ma so che anche Corvino si è stato fatto il nome di Corvino sono cose normali nel momento in cui le cose non vanno bene sulla prima parte quando lui dice sono io responsabile ci siamo chiunque fa il Presidente è responsabile nel bene e ovviamente anche nel male cioè lui è sempre non ci può essere qualcuno che è responsabile quando le cose vanno male oppure viceversa qualche Presidente che dice no io sono responsabile solo delle cose magari per troppa no assolutamente si è responsabile sempre ovviamente sei tu che dici l'ultima parola sei tu Presidente che condividi o meno le scelte le proposte che vengono fatte gli atti li firma il Presidente quindi è evidente su questo su quell'altra storia credo che siano un progetto per destabilizzare o per insomma per destabilizzare ci vuole io l'ho già detto in un'altra occasione quando Paparesta ha scritto quella lettera perché la presupposto che se una società è forte e non ci sono fessure esatto non ci sono non ci sono non destabilizzati in nessun modo esatto però io credo che un progetto di destabilizzazione presuma la cattiva fila cioè presuma un qualcosa di studiato a tavolino un dolo bravissimo ecco mi hai tolto la parola l'ho già questo espresso ti ripeto in occasione anche tu ricorderai in quella lunga lettera post Bari post Bari Modena mi pare Modena sì post Bari Modena c'era questo passaggio di un progetto e io lì vi chiesi ma però può darsi anche che lui conosca delle cose che non vuole dire che noi non conosciamo e che quindi quello che dice sia fondato noi non lo sappiamo però il fatto che in un contesto come quello che ha vissuto il Bari si faccia il nome di Perinetti o piuttosto anche dell'allenatore sono fatti tanti nomi è evidente che lo considero un fatto cioè normale se poi c'è qualcuno che trama nell'ombra se poi c'è qualcuno che tiene la volata a qualcun altro al di là del fatto che possa essere legittimo o meno però non credo che questo possa certo rappresenta un problema un fastidio perché perché è evidente che Antonelli quando legge che magari c'è un contatto con Perinetti piuttosto che con Corvino piuttosto che con che con Lucchesi è evidente no che se fosse vero che Paparesta sente però secondo me Stefano Antonelli fa il direttore sportivo lui dice di esserci da 19 anni in questo ambiente quindi Stefano Antonelli sa perfettamente che in questi momenti si è tutti quanti in discussione cioè diventa un fatto cioè è normale prendiamo un'altra telefonata pronto ciao Enzo sono Antonio Damodugno ciao Antonio un cordiale un cordiale saluto anche a Michele grazie volevo fare il benvenuto e buon lavoro a Nicola poi volevo ricordare al buon Paparesta di mettere una tribuna all'antistadio possibile che è una vita che ci dobbiamo accalcare per vedere l'allenamento e poi voglio usare una frase che utilizziamo all'inizio quando è nata la nuova società si ce la ricordi? qual è? non mi ricordo è una bella frase penso da muovare da muovare va bene va bene speriamo che sia davvero così speriamo bene che poi sulla tribunetta all'antistadio devo dare ragione a Paparesta perché ma che ci vuole? no ascoltami ascoltami non si può pretendere che una società peranata faccia tutto quello che non è stato fatto a ragione però però guarda Paparesta 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 prende appunti le fa queste cose perché Paparesta vuole sempre accontentare i tifosi questo mi pare abbastanza chiaro andiamo in pausa pubblicitaria poi torniamo insieme abbiamo alcuni passaggi di Nicola ma abbiamo anche Sabelli che è la prima uscita di un giocatore dopo la conoscenza di Nicola tra poco